Buongiorno, buon sabato mattina cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questo consueto appuntamento quotidiano con i giornali, con la carta stampata. Sfoglieremo insieme le tre testate in edizione locale a Carrino, messaggero e corriere adriatico. Ma prima di fare questo, come sempre, guardiamo le previsioni del tempo e il santo del giorno. Oggi è sabato 28 febbraio, San Romano, il sole è sorto alle 6.46 e tramonterà alle 17.55. Ebbene, guardiamo le previsioni del tempo, questa è la telecamera posta sopra la nostra sede, vedete questo bel cielo così terzo, questo è quello che si prospetta per oggi. A quest'ora guardiamo la temperatura al suolo, è di 2 gradi e 0,8, un'umidità del 90% e questa è la situazione di Fano. Ma vediamo la protezione civile, che cosa ci dice, che cosa ci prospetta per questo weekend. Il sabato oggi quindi sarà un sabato direi abbastanza regolare, abbastanza bello perché è sereno, poco nuvoloso, nessuna precipitazione, venti di brezza leggera e mare poco mosso, quindi un buon sabato. Vediamo invece per domenica il cielo sereno, poco nuvoloso, sarà interessato dal transito di alcune velature, però non ci saranno precipitazioni e insomma anche qui sia il vento che il mare rimane invariato. Vediamo invece per l'inizio della settimana, è lunedì, quindi lunedì 2 siamo già a marzo, cielo parzialmente nuvoloso, ci saranno delle schiarite ed hanno elementi più consistenti però in alternanza, quindi sarà il cielo un po' nuvoloso e un po' di schiarite, precipitazioni, possibilità di brevi isolati piovaschi nelle zone interne, le temperature saliranno, il mare sarà poco mosso, però ci sarà un'intensificazione dei venti. Qual è la tendenza dei giorni successivi, quindi per il prosiglio della settimana? Condizioni sostanzialmente ancora stabili per la prima parte della settimana, quindi prima parte della settimana stabile, però un weekend tutto sommato accettabile. E allora guardiamoli i giornali, partiamo subito dal resto del Carlino dove c'è riportato in grande evidenza, un caso che è alla ribalta anche nazionale grazie a una televisione, un canale televisivo della Rai e una trasmissione, chi l'ha visto, che ha portato in evidenza questo caso. Stiamo parlando del Fanese scomparso in Albania, a parlare alla sorella di Ivan dice ci sentiamo abbandonati, ecco la vedete qui durante l'intervista alla trasmissione, troppe cose che non tornano, dice ci sentiamo abbandonati perché, e anche presi in giro, perché mi sembra che l'Italia abbia soggezione dell'Albania e non capisco il perché. Qui nella foto vedete la persona scomparsa, il fratello Pagan che, e questa dovrebbe essere la sua fidanzata albanese, sopra il computer dei misteri. Eccolo qua, il computer dei misteri dove ci sono delle tracce di ciò che lui gli ha scritto, l'amarezza dell'amante tradito, Alba vergognati ogni volta che truffi qualcuno in rete. Ecco, e quindi ci sono diversi retroscena da chiarire per questa vicenda. Continuiamo sulle pagine del resto del Carlino per quanto riguarda Fano, bilancio, quindi il bilancio del Comune, mancano 4,5 milioni, caccia ai tagli, a tremare la paura che ne faccia le spese maggiori è la cultura. Su questo settore incombe una sforbiciata da 300 mila euro. I sindacati chieste le detrazioni, tasi per i redditi fino a 15 mila euro. E ancora la politica, sapete che ci sono le primarie del PD che si prospettano per le elezioni regionali che ci saranno fra pochi mesi. Ed ecco qui il Vademecum per il voto di domani e oggi si vota in nove seggi. Ancora l'ultima pagina che riguarda Fano, una bella iniziativa che continua ad avere un grande successo, il pesce nelle scuole. Sappiamo che i bambini col pesce non hanno una grande dimestichezza, anzi se possono lo evitano. Questa invece iniziativa è un'iniziativa che ha discorso grande successo. E allora qual è il risvolto? Dopo Papa Fish, pesce fresco di successo nelle mese scolastiche e Fano è il comune delle Marche che ha aderito con più scuole. Il risvolto positivo qual è? Che molti genitori dicono che i loro bambini hanno cominciato a mangiare pesce anche a casa e questo è un bel risultato sicuramente. Continuiamo sul resto del Carlino, andiamo a vedere però quello che ci viene proposto sulle pagine che riguardano Pesaro e la provincia in generale. Allora il grande fratello, stiamo parlando di telecamere, telecamere nei locali per evitare i furti e quindi questo è il risultato dell'incontro ottenuto dalle associazioni di categoria con il prefetto che gli traccia la nuova linea. Naturalmente c'era stato un caso nei giorni scorsi di un locale pesarese che era stato multato di 12 mila euro perché sulle telecamere c'è una normativa ben precisa e allora incontro ieri con i rappresentanti dei commercianti per evitare queste multe per avere tutto a norma. In centropagina poi c'è un'intervista ad Amerigo Varotti che continua la sua crociata contro i circoli e dice io ho già pronto un elenco da portare alla guardia di finanza e ho segnalato i veri abusi perché giustamente lui dice se un circolo privato è un circolo privato non può essere aperto al pubblico perché se no sarebbe concorrenza saliare perché i circoli privati hanno delle normative e delle detassazioni importanti proprio perché sono ad uso e consumo degli addetti al circolo se sono aperti al pubblico non è più così e quindi insomma Varotti ha da tempo deciso di portare avanti questa lotta a questa forma di abusivismo. Poi dice anche qualcosa riguardo del Cozzamara è stata praticamente voluta dal garante della Pravisa dopo aver visto tutta la documentazione questo il suo pensiero. Ancora pianeta scuola da Pesaro le scuole sono sempre così da alcune dover essere messe a norma insomma il piano scuola è un piano importante con capitoli di spesa importante e allora vediamo per quello che riguarda Pesaro la scuola Leopardi giardino e impianti nuovi a lunedì il via dei lavori per la riqualificazione la scuola media ha 350 alunni e 100 docenti e anche il personale. Altre migliorie sono previste e poi gli altri istituti prossimo intervento sarà alla Lighieri poi sarà il turno della Don Gaudiamo e quindi insomma buone nuove per le scuole per le scuole fanesi. Cambiamo testata andiamo nel corriere adriatico partiamo da Pesaro vediamo qui anche qui le scuole in grande evidenza asili taglia le rette e nuove assunzioni quindi buone nuove per i frequentatori e i fruttori degli asili del no ci dice per i servizi educativi un bilancio oltre di 29 milioni di euro e sono in arrivo otto maestre e quindi buone notizie. La sanità è l'altro capitolo abbastanza trasversale che troviamo nei giornali di questa mattina ma che insomma è una polemica lunga vediamo subito le dimissioni di Capalbo inchiesta sulla nomina della dirigente adesso anche i Fano 5 Stelle chiedono la testa del direttore dell'area Vasta 1 quindi una sanità bollente vedremo come andrà questa questa vicenda passiamo alla pagina di Fano del corriere adriatico qui anche qui sanità ma è un altro tema della sanità è l'ospedale l'ospedale è un tema annoso vediamo ospedale manca una strategia progetto per muraglia senza solidarie territoriari un ruolo ancillare per Fano e quindi insomma vedremo che cosa ne sarà dell'ospedale fanese il presidio del santa croce di Fano l'azienda ospedaliera Marche Nord nell'articolo di Lorenzo Furlani tutti i dettagli di questa vicenda ci sono anche altre testate che hanno ripreso questa questa argomentazione e allora sempre dalle pagine di Fano del corriere adriatico fondazione a casa i due consiglia adesso è anche la formazione di Bene Comune che attacca Tombari e chi lo ha rieletto presidente in investimenti e triangolazioni la triangolazione quale sarebbe naturalmente tra la fondazione Carifano Banca Marche e società Madonna Ponte insomma continua a suscitare nette prese di posizione in città dopo l'onorevole l'area ricciata anche il gruppo consigliare 5 stelle interviene il consiglio direttivo di Bene Comune ancora dalle pagine del no questa è un'altra pagina del messaggero adesso lo vediamo il messaggero partiamo però dalla pagina di Fano allora anche qui come vi dicevo è ripreso da altre testate questo discorso e dello scomparso Ivan in Albania eccolo qui scomparso ci nascondono la verità la sorella del fanese sparito in Albania chiede indagini in Italia chiede che siano avviate delle indagini in Italia e dice appunto Barbara Pegan non basta l'inchiesta per omicidio aperta a Tirana sarebbe bene che si muovesse la procura anche di Pesero il comune taglia ma non aumenta le tasse anche qui la ripresa sul bilancio impegno degli assessori mascarini e barniesi i sindacati chiedono l'ise per tutti i servizi e più soldi nel fondo anticrisi ancora sapori e motori una manifestazione che aveva riscosso tanto successo in passato e che aveva avuto alterne vicende e trasloca dal Lido alla Sassonia e vedremo la nuova formula di questa manifestazione pagina di Pesero del messaggero qui insomma le primarie sono sono tengono tengono il titolo in apertura Roma non imporrà il candidato Ricci apre Aldiago con area popolare ma l'aspirante governatore si sceglie domani intanto ad Ancona Spacca tiene a battesimo il nuovo soggetto politico del grande centro e poi la questione Amga nella fotonotizia presto la bonifica e anche qui la sorella dello scomparso dalle pagine del messaggero dice ci nascondono la verità e altra pagina che riguarda Pesero del messaggero via Cavour anche a Pesero c'è via Cavour ed è una realtà multietnica tante le attività bar e ristorante e qui insomma in questa in questa pagina del messaggero viene fatta un po' la fotografia di questa pagina pesarese la strada del centro storico è rifiorita grazie all'impegno dei negozianti e la grande offerta enogastronomica dice la rivitalizzazione non passa certo attraverso la ZTL sarebbe la morte del commercio e quindi pareri anche su questa questione vedete qui nella foto i vari protagonisti di questa strada oggi si inaugura anche una kebaberia e quindi una strada molto vitale chiudiamo con l'ultima pagina che riguarda Pesero e anche noi perché insomma è una vicenda che guarda anche a Fano l'ospedale unico anche qui intreccio tra sanità ospedale e elezioni politiche ospedale unico a Muraglia scherzo da primarie seri il sindaco di Fane dice tutto bloccato se non si trova la sintesi invece Ceriscioli l'ex sindaco di Pesero dice la scelta del sito sarà condivisa tra le due città bene questa era l'ultima notizia che vi abbiamo letto che troverete sui giornali naturalmente grazie per essere stati in nostra compagnia Occhio ai giornali torna lunedì mattina alle 7.30 e questa sera apportamento con l'informazione Occhio alla notizia alle 20.30 grazie per essere stati con noi buon sabato a tutti voi